Qual è un consiglio che ti sentiresti di dare a un ragazzo che vuole diventare, o comunque al sogno di diventare, il nuovo Giorgio Petrosian? Allora, a un ragazzo che vuole diventare il nuovo Giorgio Petrosian, intanto il cellulare Instagram deve mettere via da parte. Guarda che questo! Bravo eh, bravo. Eh, sono tanti. Allora, ormai, giorno d'oggi, i ragazzi si allenano per Instagram. Oh, foto, allenamento. Per vanità. Hai capito? Certo. Innanzitutto. Poi, prima di ottenere qualcosa, devono sapere che bisogna fare dei sacrifici. Perché il giorno d'oggi, i ragazzi, hanno tutto ma senza fare sacrifici. Manca questa cosa qua. Non hanno, non hanno, non conquistano, non hanno la voglia di, 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 di lavorare, di ottenere qualcosa sudando. Vita facile, porta persone deboli. Vengono nella mia palestra e pensano che sia tutto così facile, vogliono diventare, e dopo si rendono conto che non è così, proprio, non vai da nessuna parte. Devi, devi, devi sacrificarti, devi allenarti il giorno. Io, ma sinceramente vi dico, gli allenamenti che facevo io, ma se una persona, se li dico a una persona normale. Non ci crede. Ma io, mattina alle sei, legavo la, la corda, la ruota, la ruota della macchina, e correvo su una strada pericolosissima, e un'ora con mio fratello. E mattina mi, di giorno mi dicevano, ma chi era quel, mica eri tu quel pazzo che correvi su quella, guarda che pericolosissimo. Correvo 40 minuti, perché avevo visto un tailandese che combatteva, aveva gambe, tirava forte, avevo chiesto, ma come mai sei così forte così? E lui mi aveva detto che lui ogni mattina faceva questa roba qua, e noi subito via, allenamento. E il giorno d'oggi, ragazzi, non, anche lì, vincono una piccola, una piccola coppetta e si sentono già arrivati. Ma non, non è così, no? C'è qualcuno in palestra da te che merita? Un nuovo petroison che magari stai coltivando? Qualcuno in cui credi? Sì, c'è, noi abbiamo tanti ragazzi giovani, forti, specialmente c'è uno bravino che ha 18 anni, è mancino, ed è, c'ha proprio il mio stile, anche io sono mancino, no? Ed è molto forte, adesso c'è 6 a 0, in Italia, infatti, adesso nessuno non vuole fare con lui. Perché è veramente forte. Però da qua a dire che diventerà... La strada è lunga. Il nostro sport è veramente difficile, devi sacrificarti veramente la vita, devi mettere prima te stesso lo sport, poi arrivi tu, poi forse arriva la famiglia. Ma non è, non è uno sport. Io e i miei nipotini non vorrei mai... Loro si allenano, fanno per giusto, per autodifesa, tutto, però non vorrei mai che loro prendano questa strada qua, perché è difficilissimo. È difficilissimo. Io ho sempre detto, no? Quando ho cominciato ad allenarmi, ho sempre detto, non voglio mai avere rimpianti quando finirò la mia carriera. Se tornassi indietro, se tu mi dici, potrei fare di più. No. Se io tornassi indietro non potrei fare di più, perché io gli ho dato massimo. Io ho fatto il più che potevo. Quindi io, quando finirò la mia carriera, non avrò più... Rimpianti. Non avrò più rimpianti. Io ho sempre detto, non voglio avere rimpianti, no? Perché ci sono tanti che... Eh, ma io potevo diventare perché con la propria della ragazza così... Stesse cagate qua, no? Tutte scuse. Tutte scuse. Hai capito? Le conosco bene. Ecco. Le utilizzo pure io tutti i giorni.